Provincia di Pescara e Regione Abruzzo impegnate per evitare agli studenti delle classi quinte dell'Istituto Volta il doppio turno pomeridiano per via della mancanza di aule disponibili ad accogliere l'elevato numero di iscritti. Le due istituzioni si siederanno intorno ad un tavolo per trovare una soluzione temporanea in attesa di avere un riscontro sulla possibilità di avere altri spazi. Sì, a brevissimo incontrerò sia il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che si è adoperato al fine di risolvere la situazione ma anche ovviamente l'assessore alla pubblica istituzione regionale Roberto Sant'Angelo con i quali si era già delineata una strada che aiutasse la provincia in modo tale da darle delle risorse che la provincia non ha per affittare dei locali da dare in uso al Volta. Adesso non torno sull'inopportunità che io ho manifestato più volte, cioè quella di utilizzare fondi pubblici non per riqualificare il nostro patrimonio scolastico, non per dotare gli edifici di migliorie e di spazi ulteriori ma di fronte a una esigenza che si è creata e nonostante ci fossero stati degli appelli in precedenza a tutti i dirigenti, ecco noi dobbiamo trovare una strada, la stiamo cercando insieme ma una cosa è certa, la provincia non può andare all'esterno e spendere soldi come è stato in questi anni, benché le esigenze degli studenti siano prioritarie. Si devono cercare strade diverse e anche i dirigenti scolastici mi auguro possano collaborare da questo punto di vista. Quest'anno per l'ennesima volta ci siamo trovati con un'esigenza dell'istituto Volta, la regione ci è venuta incontro, ci verrà sicuramente incontro, però mi auguro che questa, come dissi io all'inizio del mio mandato, non sia una consuetudine ma sia un qualcosa, un percorso che viaggi in un'altra direzione, perché soldi ai terzi troppi ne sono stati dati, 600 mila euro all'anno sono davvero tanti, adesso siamo felicissimi perché in tempo reale, in tempo record abbiamo dotato il Marconi che era uno degli istituti che però aveva esigenze oggettive di due edifici che ci hanno consentito di eliminare una spesa da questo punto di vista, speriamo di riuscire a eliminarla del tutto e di far fronte alle esigenze degli studenti al meglio con il patrimonio edilizio della provincia.